È un dato di fatto che un ambiente pulito è fondamentale per la salute degli animali. Per questo sono indispensabili una regolare pulizia e un'ottima disinfezione dell'ambiente in cui alloggiano gli animali. Solo con un'accurata disinfezione dopo la pulizia si possono rimuovere completamente gli agenti patogeni. I disinfettanti skippers sono stati sviluppati appositamente per combattere efficacemente gli agenti patogeni. I nostri prodotti sono adatti a diversi tipi di ambienti e superfici. Sono sempre facili da applicare e il dosaggio è basso, quindi non serve molto per ottenere un buon risultato. Questo rende più facile mantenere in salute gli animali e accresce notevolmente la possibilità di migliorarne il rendimento. Un'azienda zootecnica di successo inizia con una buona gestione dell'igiene.